Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, ritorniamo con la nostra ospita a cui do subito il saluto, insomma il buongiorno, il benvenuto a Federica Dotta, responsabile del Rifugio Re Carlo Alberto di Luzerna San Giovanni. Buongiorno Federica, ciao. Ciao, ciao a tutti. Grazie per essere venuta qua perché abbiamo invitato Federica perché è ormai imminente la partenza di Mi Rifugio al Cinema anche quest'anno, mesi di luglio e agosto, ritorna questa bella rassegna cinematografica. Quanti anni è Federica che si fa a Mi Rifugio al Cinema? Ebbene non potevamo mancare perché questo è l'undicesimo anno, non siamo ancora stufi di organizzare Mi Rifugio al Cinema e le persone non sono stufi di venire al cinema. Di venire soprattutto, insomma tra l'altro in questa ripresa anche di attività che caratterizza un po' il post periodo di chiusura della pandemia. Sì, noi insomma non l'abbiamo mai mollato, neanche in periodo di pandemia non l'abbiamo mollato con il cinema ma quest'anno possiamo dichiararci decisamente più liberi e quindi il nostro spirito è ancora più forte. Abbiamo ancora più voglia, non vedevamo l'ora di organizzare a gennaio, abbiamo iniziato, quali film vediamo e quindi siamo pieni di voglia di affrontare questa estate, un'estate che speriamo possa essere una bella estate per tutti, noi ci mettiamo del nostro come struttura, come RSA, sempre un po' diversa come sai e ci mettiamo il cinema. Quindi per l'undicesimo anno torniamo nel nostro giardino del Cento Diurno del Rifugio con il nostro bello schermo enorme a proiettare un sacco di bei film, come hai detto tu, tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, quindi il giovedì non prendete altri appuntamenti perché siete tutti invitati al rifugio dove fa fresco la sera. Ebbè sì, il giardino è meraviglioso peraltro, poi siete attrezzati anche in caso di maltempo, c'è una tensostruttura, quindi insomma la proiezione viene garantita anche nel caso ci sia insomma il temporale estivo passeggero perché nell'arco degli anni si sono appunto attrezzati per venire incontro a tutte le esigenze e so che insomma ci sarà anche un po' una chicca, ecco. che accompagnerà le serate. Sì, noi appunto dopo la pausa di pandemia e diciamo il rallentamento causa pandemia ripartiamo col botto e quindi torna il bar che insomma era sempre un momento clou perché torna il nostro famoso tiramisù. C'era gente che veniva al rifugio solo per mangiare tiramisù per cui lo riproponiamo e soprattutto ricominciamo con le cene. Quest'anno abbiate pazienza, ne facciamo una sola ma sarà stupenda perché il tema è quello della paella, insomma noi abbiamo durante gli ultimi anni assaporato una paella molto buona, tu sai perfettamente a cosa mi riferisco, ai nostri progetti anche sul territorio e quindi abbiamo pensato di organizzare una cena a base di paella con i nostri operatori e l'aiuto di qualche ospite della nostra struttura e insomma sarà una serata importante perché torniamo ad avere un momento veramente di apertura totale e poi ovviamente dopo ci sarà il film come sempre ma a base cucina anche il film ovviamente. Esatto, esatto, la data tra l'altro è quella del 3 agosto, guarda tra l'altro mentre parliamo per chi ci sta guardando in video facciamo vedere scorrere anche il programma di questa rassegna 2023 quindi si inizia il 6 luglio e si conclude il 31 agosto, la data di cui parlava Federica poco fa, quella che verrà abbinata appunto alla cena con paella sarà il 3 di agosto e il film sarà Sea Chef quindi proprio in ambito culinario anche il film. A proposito di film come l'avete scelti? C'è stato un filo conduttore? Ma allora è stato un lavoro di gruppo, noi siamo una bella equip. L'equipe che si occupa di scegliere i film per il rifugio del cinema. Esatto, l'equipe siamo noi che lavoriamo a rifugio quindi insomma abbiamo più che altro un'esperienza personale più che di cultura cinematografica però abbiamo un po' messo insieme tutte le idee di ciascuna delle nostre responsabili e abbiamo tirato fuori questa lista che a parer mio e a parer delle mie colleghe è molto interessante, ci sono dei film molto nuovi, dei film divertenti, insomma l'obiettivo è anche un po' quello di uscire dalla tensione, dalla tristezza del momento e davvero passare qualche serata in maniera spensierata. Il cinema al rifugio ha sempre voluto dire questo, sempre voluto dire celebrare il possibile, cioè far sì che anche una serata come una serata cinema, una serata film possa essere qualcosa di diverso, di divertente in un ambiente che è una RSA quindi dove ci sono persone con difficoltà ma che anche per loro in quel momento sia davvero un momento di gioia e di spensieratezza come tanti altri momenti che noi cerchiamo di assicurare i nostri ospiti. Ma questo insomma è veramente per tutta la popolazione quindi noi vi aspettiamo numerosi. I film comunque, cioè la scelta dei film non è comunque banale, sono comunque delle pellicole che raccontano qualcosa che ci introducono magari in un mondo particolare, che ci fanno scoprire degli aspetti ecco che forse non sono così alla portata di tutti nella quotidianità quindi insomma c'è una scelta comunque dietro attenta e so che ci sono appunto una legge citata la serata del 3 di agosto la serata con la cena a Paella ma c'è un altro appuntamento che sarà quello del 20 luglio che vede una collaborazione particolare sì assolutamente, da sempre comunque il rifugio ha cercato di anche con la leggerezza toccare argomenti importanti perché in fondo un film è quello che aiuta anche a riflettere, a tirare fuori le emozioni e a riflettere noi abbiamo deciso di fare, accettare questa collaborazione con Cinema Autismo all'interno del progetto di svelamenti e quindi ci sarà questo film il 20 luglio, quanto basta, un film interessante davvero insomma il tema è quello dell'autismo e noi siamo, il rifugio è felice di ospitare questa serata tra l'altro l'ingresso sarà gratuito per quella sera per quella sera esatto, ci sarà poi possibilità di fare un'offerta ma è gratuito perché insomma il rifugio ha anche piacere di parlare di altro, di qualcosa di importante di cui fortunatamente si sta parlando sempre di più e quindi siamo contenti di accogliervi anche in quella serata per vedere un film un po' diverso che fa pensare anche con la possibilità di avere modo di parlare di quello che è stato film e dei pensieri che suscita quindi anche quella sera noi speriamo di avervi in tanti perché è importante passare anche dei messaggi insomma seri certo certo che non vuol dire insomma un film diciamo spensierato non vuol dire prendere alla leggera i temi ma viverli con la giusta leggerezza anche per poterci si approcciare nel migliore dei modi quindi troverete tutto l'elenco uscito peraltro proprio oggi credo il comunicato stampo ufficiale quindi adesso incomincerete anche a far pubblicità insomma un po' in modo intenso il mio rifugio al cinema ripeto le date sono tutti giovedì quindi insomma facile da ricordare alle 21 e 15 a Luserna San Giovanni in località Musette dove si trova appunto il rifugio Re Carlo Alberto si inizia il 6 di luglio il primo film sarà Il piacere tutto mio e poi si prosegue 13 luglio, 20 luglio, 27 luglio luglio poi 3 agosto, 10 agosto, 17, 24 e 31 di agosto avete hai un'altra chicca qua vedo davanti agli occhi che ci hai portato a vedere in studio faccio vedere immediatamente una borsetta più sei fuori più sei dentro ed è un piccolo gadget che immagino abbiate pensato proprio per questa stagione esatto questo è uno dei nostri gadget c'è anche una calamita insieme insomma che si può acquistare la faccio vedere bene eccola qua questo è il nostro gadget come vedete il verde rimane per noi il rifugio verde verde rifugio insomma la frase è uno slogan che vuol dire tanto ed è anche uno slogan però leggero si lega anche al percorso sulle demenze che il rifugio porta avanti assolutamente e quindi insomma anche in questo caso coinvolgere e insegnare qualcosa rispetto all'accoglienza sappiamo che la Val Pelli c'è territorio accogliente verso le persone con demenza un progetto che si sta estendendo in Val Chisone nel Pinerolese e che sempre di più aiuta insomma a includere accogliere anche le persone che hanno delle difficoltà e ovviamente i loro familiari sì questo è uno dei gadget che noi quest'anno abbiamo deciso di fare proprio perché acquistandoli potrete contribuire insomma a darci una mano per creare progetti nuovi e permettere agli ospiti del rifugio ma in generale alla nostra idea di inclusione e di cerebrale possibile alle persone di poter fare di più di quello che fanno il nostro obiettivo è sempre quello di aprirci di più al territorio permettere a tutti di fare esperienze e continuare una vita assolutamente normale perché è giusto che sia così nonostante la malattia certo grazie grazie Federica ovviamente pagine facebook sito di Aconia Valdese come riferimento persone.org come diciamo appunto di riferimento appunto per avere il calendario completo ma ve lo ricorderemo anche noi di volta in volta di settimana in settimana l'appuntamento appunto di me rifugio al cinema buon lavoro a te e ovviamente a tutta l'equip del rifugiore carlo alberto e buon estate grazie mille daniela buon cinema grazie speriamo vi aspettiamo